Racing Podcast del martedì per parlare del weekend di Superbike e Supersport a San Juan de Villicum in Argentina, penultima tappa del Mondial Derivate della Serie. È un Racing Podcast che parte per una volta dalla categoria di mezzo perché si è assegnato il titolo del mondo allo svizzero Dominic Gerter che di giustezza, ovvero gestendo le gare che doveva gestire con un vantaggio enorme su Steven Odedans si aggiudica il suo primo titolo del mondo della classe intermedia delle derivate della serie, quindi l'E600. Per Gerter è una sorta di riscatto dopo aver perso il titolo della Moto E nella lotta con Jordi Torres, qui invece Gerter ha fatto di fatto il bello e cattivo tempo dominando il lungo irrago della stagione vincendo con un vantaggio enorme pur saltando una gara, questo dall'idea dell'onnipotenza e della dominanza del pilota elvetico che veramente corona ancora una volta la stagione del dominatore delle 600. Dopo Andrea Locatelli dunque si conferma una Yamaha in testa che ha fatto delle derivate della serie e dunque festeggiamo il primo titolo del mondo di Dominic Gerter che di fatto chiude un'era a quella della 600 moderna perché ricordiamo che dall'anno prossimo ci sarà l'introduzione delle nuove moto Mentre questo Racing Podcast è uscito martedì alle 14 per ovvi motivi di post-produzione, il post-produzione che mi dicevo sarà riguardante il Gran Premio di Austin, Texas per quanto riguarda la Formula 1 e poi invece il giorno dopo mi auguro di far uscire il Racing Podcast sul secondo Gran Premio di Misano per quanto riguarda la moto GP che corre ovviamente sul circuito Rovaioli. In ogni caso fatemi sapere di cosa ne pensate del titolo del mondo di Dominic Gerter nel Super Sport e del titolo che verrà ad assegnarsi in Indonesia tra Radia Tioca e Gionata e Ray. Il saluto da parte di Meta Torgaard, ci vediamo al prossimo video.